Oltre il formicario c'è tutto un mondo da esplorare! E anche se a volte i viaggi possono essere pieni di imprevisti, Anthony e i suoi amici sanno sempre come divertirsi! Ed è anche il perpino con che riesce a rovinare la festa! Le avventure di Anthony Formidabile Formica! Tutti i giorni su Gingham! Ti piacciono le banane? Ciao banane! Perché ne abbiamo due! Solo per te! Andiamo a fare una visita agli orsetti! Comincia la festa! Ma che potrà essere adesso? Presto, presto! Sì, chi è? Che divertimento! Ciao! Ti ho vinto! Allora, vai! Banane in pigiama! Giovedì su Gingham! No, va giusto a tutto! Tra poco! Su Gingham! A casa di Dorothy non ci si annoia mai! È sempre piena di amici e tante cose da fare! Vieni a divertirti anche tu! La festa è appena cominciata! Dorothy, il dinosauro! Tutti i giorni su Gingham! La festa è appena cominciata! 3 amici che si divertono un mondo ognuno ha modo suo niente può separarli anche quando sono nei guai buoni bananai mo tu ti giovi sujinja